buongiorno a tutti amici di ac milan inside benvenuti a un nuovo video parleremo del situazione infortuni in casa milan nel prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere il segui al nostro canale youtube e like a questo video allora la situazione infortuni sembrava finita questa ecatombe di giocatori che si fanno male si facevano male al milan e invece domenica sera contro il napoli purtroppo si è infortunato davide calabria sempre problema muscolare ieri ha fatto gli esami per fortuna almeno quando si parla di milan andiamo con i piedi di piombo dovrebbe saltare sicuramente la partita correnne di giovedì europa league e quella di domenica sera in campionato a monza quindi al momento il capitano non ci sarà per due partite poi da settimana prossima si valuterà giorno per giorno il suo recupero e quindi probabilmente vedremo se sarà disponibile per la gara di ritorno in francia di europa league questa notizia negativa invece per quanto riguarda quella positiva ciao è rientrato ad allenarsi in gruppo e quindi a disposizione per quanto riguarda la partita di giovedì ovviamente non si sa se partirà dal primo minuto ma molto probabilmente sarà in panchina per poi dopo essere a disposizione del mister quindi il suo rientro in campo sarà graduale non si affletterà nella situazione quindi per non avere nessuna ricaduta per quanto riguarda tomori e caluli invece se ne riparerà per fine febbraio inizi di marzo quindi questa è la situazione al momento sugli infortuni dalla squadra rossoniera quindi al posto di davide calabria molto probabilmente scenderà in campo alessandro florenzi in queste due partite ciao è tornato ad allenarsi e calulu e tomori invece si aspetterà ancora e quindi dovrebbe dovremmo arrivare a fine febbraio inizi di marzo nel concludere vi ricordo di seguire tutti i nostri canali social facebook twitch instagram twitter e tik tok continuare a seguire il nostro canale youtube per tutti gli aggiornamenti su quanto riguarda il mondo rossoniero ciao